Grazie a tutti, oggi c'è cinese, perretti secondo, poi c'è il gruppo, poi c'è... No, dipende, il cliente non ci sarà capace di vedere, perché andate a voi andare, ecco... Ma lo sappiamo di dire. Mi ha interrotto il lavoro? No, 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 non funziona a vederla, Matteo! Non funziona a vederla! È soltanto a scuola che mi avevano accolto, dicendo lei per... Non funziona a vederla, Matteo! Come sta andando? Bene, bene! È venuto in un cantine favoloso! Ma noi, tu sei sì, poi sono posto per dire che bisogna smettere di fare la guerra non è un piano! No, ha visto? Ha visto che ci accendiamo di qualità, roba di livello! Ciao, ciao! Buon lavoro! Grazie! Vieni qui, dove va? Se non in Italia, tu te? Francia, no, no, Volante. Volante, Germania. Questo è il secondo ponte e poi c'è il terzo ponte. Buongiorno! Qui hai il salone, poi hai... Ti raccomando? E... ...quanti questi sono i macchi storici come Paiutti? Cioè, arriva... ...perine del secondo... Grazie! 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 Grazie a tutti! Grazie!